No, sono comodi, sto programmino per i video, ci vuole perché uno bene o male i video li fa. Allora, se te ne fai qualcosa, si chiama, e mo mi ricordo sempre come si chiama il nuovo programma, e non mi ricordo, non mi ricordo, non è vero eh? Non mi ricordo che uno faccio un bel video alto, arrivai per il cavo da questo buzoreno. Non mi ricordo che ti mangiare un po' solo di posto, no? Viste come ci hanno fatto? Eh, come arrivai in una trattoria, ma sentai vedere la televisione, farete tutte le cose, ma vaffanculo. Non mi ricordo, ma non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo che è successo. Io non so mai cosa facevo la mattina. Nell'ora e mezzo c'è una mia figlia che mi diceva, gira sull'Italia 1 che stava facendo, vuoi iniziare il gran pezzo. Allora, io sapevo che c'era la corsa, infatti quando c'era la corsa, c'era bella che si mette pure poche corsa. Eh, ma quello era la mattina. La mattina è qua? Eh, quello era la corsa, che c'era la mattina. Corriva la mattina là? Ma la corsa, che c'era la mattina? Lì? Eh, e chi non c'era la mattina? Eh, ma quello lo fanno... Che dici? Che lo fanno per fare in modo che c'è solo l'uno e mezzo, capito? E' tutto studiato? No! A corsa, là c'era la corsa, che c'era la corsa. C'era la corsa, che c'era la corsa, che c'era la televisione. Ah, no, va bene. Lui morì alle dieci del mattino dell'ora qua. Ho capito. Cadde alle sette... E l'ottima mattina. E l'ottima mattina. E l'ottima mattina. Poi c'era due ore in ospitali, per chi voleva... E dieci e mezzo a certi ore italiane, dieci e mezzo che si veniva messo. E' un'ottima mattina. E' un'ottima mattina, e c'è molto simpatico. E' un'ottima mattina. E poi io mi volevo vedere la telecronica. Perché chi lo può, quanto capita che fa una mattina in presso? Fa una telecronica lunga, diciamo? No, fa un riepilogo, fa vedere la differenza. Ah, lo fa vedere differenza. Ma io vorrei, c'era invece, non lo faccio. E che cosa fa vedere? La scuola, allora. E' un po', che vuoi fare? Poi che facciamo? La corte a cap, la corte a capuzzeo, la corte a capuzzeo, la corte a capuzzeo. La macconciata. La stalla che sta rata, non mi piace cosa. Ci fa una pulsata a sta rata, io dico sempre ma non faccio mai. Mi sono scordato di portare una cosa. Che cosa? La ventola, la ventola. La ventola. La ventola. La ventola. ... La ventola. La ventola. Le ventola. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti.